Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a lavorare su questo motore V6 3000 turbodiesel di questa Audi Q7 perché praticamente si è spaccata questa corona dell'albero a camme, vedete? E poi si deve essere spaccato anche un bilanciere perché vedete che c'è la martellata sulla base della testata e l'albero a camme ha questa incisione sulla cementazione. Ora prima dovremmo andare a capire come mai è successo questa disgrazia e intanto abbiamo visto che anche la turbina ha dei problemi, vedete? Guardate, l'albero della turbina non ha più lo spallamento dall'altra parte quindi questa turbina ha ancora pochi chilometri di vita. Quindi andremo a staccare il cambio, andremo a togliere la distribuzione e andremo a vedere qui dentro cosa è successo per questo mezzo disastro che è successo su questo 3000 turbodiesel V6. Ogni tanto vedete qua che c'è l'ingranaggio che è spaccato, qua mancano addirittura i denti quindi dovremo capire se è un difetto di fase o un difetto di cementazione. Ovviamente prima di andare, siccome il motore girava ancora, di andare a smontare tutto abbiamo fatto una prova compressione per assicurarci che il motore non sia andato fuori fase e la compressione non c'era più su qualche cilindro che magari qualche valvola era andata a toccare e andremo a vedere cosa è capitato in questo 3000 V6 turbodiesel ma già abbiamo scoperto che la turbina non è a posto. Ciao a tutti amici e alla prossima.